Benvenuti, siamo a Lisbona, al Summit Internazionale di Medicina Anti-Aging 2023. Sono qui con il professor Ronimoia, uno speaker di fama internazionale, che ci parlerà della nuova e innovativa terapia cellulare mitocondriale. Grazie Claudio, grazie di venire a questo Summit di Lisbona. Il mio lavoro è con terapia cellulare dove possiamo applicare pezzi piccoli delle cellule per regolare l'invecchiamento e le patologie associate all'invecchiamento. Quindi quello che faccio è prendere un pezzo, una proteina del mitocondrio che fa energia, desintossica, regula tutta la qualità della vita e quando si applica questo mitocondrio, questo pezzo mitocondriale in un paziente possiamo regolare il metabolismo di questi pazienti in diversi sensi, dimagrire, migliorare la qualità di zucchero, migliorare la qualità del cuore, del cervello. Quindi tutto si può fare con questa terapia cellulare innovativa, tecnologica. Grazie di sentirci e grazie a Claudio di venire a Lisbona. Grazie Roni e vi assicuro che è una terapia veramente innovativa, efficace, uno dei più grandi esponenti mondiali. Alla prossima!